In programma doveva esserci per l'Arezzo il ritorno al Bruno Nespoli. Le condizioni meteo hanno però imposto un nuovo spostamento. Impossibile allenarsi sul campo del villaggio Dante, così gli Amaranto sono tornati sul sintetico del buon conto da Montefeltro. Anche sul terreno in erba artificiale però non è andata meglio. La prima squadra Amaranto non ha potuto lavorare come da programma, visto l'acqua che si era formata sulla superficie. Stefano Sottili, così dopo un breve riscaldamento, ha fatto svolgere sui ragazzi un lavoro incentrato sui calci piazzati, sia in fase difensiva che offensiva, impegnando tutti i giocatori della Rosa. Unici assenti in casalezza il difensore Zach Muscat, impegnato per la Nazionale Maltese, che solo domani tornerà ad Arezzo e domenica scenderà in campo contro il Piacenza. Assenti anche Eugenio Duzzi e Camille Dianga. Il francese si è sottoposto ad un esame ecografico dal quale, nella tarda serata, sarà possibile stabilire entità ai tempi di recupero dell'infortunio. Domani allenamento a porte chiuse alle 10 al Comunale.